salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi andremo ad allenare il petto ovviamente cominceremo con una panca piana 74 kg ebbene faremo sempre la solita la solite nostre tre serie con una ripetizione e poi faremo l'ultima serie con massimo di ripetizioni panca piana fatta adesso tocca a panca inclinata faremo tre serie per max con 50 kg 50 scherzavo raga 60 kg come l'ultima volta li ho messi per sbaglio ma lo rifarò questa volta lo rifarò perché lo voglio no 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 prossimo esercizio spinte su panca inclinata 18 gradi 3 serie scusate 4 serie per 10 ripetizioni proveremo a passare da 16 a 18 kg no 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 prossimo esercizio spinte da terra con manubrio singolo faremo quattro serie per 10 ripetizioni a braccio sarebbe una specie di chest press però da sdraiato per terra faremo quattro serie per 10 appunto con 14 kg 6 6 6 8 9 10 10 10 10 10 13 mi posso assicurare che esiste tantissimo anche se c'è l'aiuto del pavimento se voi non fate toccare il braccio per terra lo tenete leggermente sollevato vi posso assicurare che è mortale anche con 14 kg che sono pochi io l'ho cominciato adesso 14 kg sono pochi, in effetti sono pochi non lo sento molto pesante però è meglio che per abituarmi al movimento lascio questo peso ci vediamo all'ultimo esercizio che sono le aperture su panga declinata questa volta non lo sento 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 non lo sento